Sono molto contento oggi di avervi tutti qui. Ministri, cari Presidenti di Regione, Sottosegretario Garofoli, sono contento perché gli accordi di oggi sono un passaggio fondamentale nell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Noi oggi definiamo i protocolli con le Regioni Liguria, Piemonte, Friuli, Venezia Giulia, Umbria, Basilicata e Puglia per l'intesa sulla realizzazione dei progetti Bandiera. La scelta di farlo a Palazzo Chigi è un segno dell'importanza che il Governo dà alle Regioni e agli altri enti territoriali nell'attuazione del PNRR, ma la scelta dei Presidenti di Regione di voler venire qua è anch'essa un segno dell'importanza che loro danno alla realizzazione di questi progetti e spero ripeteremo, anzi sono certo, ripeteremo, lo stesso momento d'incontro per tutti gli altri progetti Bandiera. Il PNRR è un piano che parte dal basso, come spesso detto. Questo di nuovo dà importanza a questo incontro perché il PNRR spesso è visto soltanto come un grande documento che è stato studiato tra Bruxelles, Roma e però si dimentica che i progetti sono venuti da voi, sono venuti dai territori. Quindi ogni momento d'incontro va veramente considerato come un momento di consapevolezza dell'importanza che l'attuazione di questi progetti avrà. E d'altronde tocca a voi a progettare altri progetti, a attuare quelli progettati. E questi sono progetti, come appena diceva ora il Presidente Emiliano, di valore e anche il Presidente Toti, un po' tutti voi avete fatto questo punto. Sono progetti di profondo valore strategico per il territorio. Non sono progetti anche importanti ma senza un valore strategico. Voi siete i protagonisti del piano, voi sarete quelli che il governo, questo governo vorrà sostenere. E su questo potete contare, potete contare incondizionatamente. Per questo voglio ringraziare tutti i Presidenti delle Regioni e anche i Ministri che sono stati direttamente coinvolti, in particolare i Ministri Speranza, Ministra Messa, Ministro Cingolani e la Ministra per gli affari regionali che ha coordinato tutto questo sforzo. E quando si dice coordinamento non è una cosa banale, è proprio trasmettere il messaggio che viene dalle Regioni al Governo centrale e viceversa. È un continuo colloquio, direi quotidiano colloquio, che permette alle istituzioni di lavorare insieme, di lavorare in maniera coordinata. Quando manca questo colloquio finisce il dialogo e si perde tempo. Tutto qua. Quindi è importantissimo. I protocolli che firmiamo oggi riguardano due progetti di grande interesse territoriale e nazionale. Entrambi mettono a sistema diversi interventi previsti dal piano, grazie alle capacità di selezione e progettazione territoriale promossa da voi, dalle Regioni. Il progetto proposto dalla Regione Liguria serve a realizzare un centro di medicina computazionale tecnologica, come è stato detto un attimo fa. Unisce infrastrutture scientifiche, tecnologiche, cliniche in modi innovativi e ha l'ambizione di diventare un punto di riferimento nel settore. Il progetto delle Regioni Piemonte, Friuli, Venezia Giulia, Umbria, Basilicata e Puglia punta a realizzare siti di produzione di idrogeno verde in aree industriali dismesse. Contribuisce a stimolare la crescita, a creare occupazione. Ci avvicina ai nostri obiettivi energetici e climatici che il Governo è determinato a mantenere e anzi a perseguire con sempre maggiore convinzione. E, Presidente Emiliano, il suo riferimento al fatto di avere questo progetto a Taranto è particolarmente importante. La Puglia oggi è la maggior produttrice di energie rinnovabili e spero continui ad esserlo. Quindi molti degli investimenti che saranno fatti in questo campo vedranno anche la Puglia di nuovo come attore protagonista. E la locazione di questi investimenti vicino a Taranto è fondamentale perché il Governo intende riportare l'ILVA a quello che era quando era competitiva. E, come lei ha detto, è la più grande acciaieria d'Europa. Quindi non possiamo permetterci che non produca. Che non produca ai livelli a cui è capace di fare, produce anche oggi. I progetti Bandiera intendono premiare le capacità creative degli enti territoriali, rafforzare la coesione sociale e territoriale. E, come dicevo prima, quelli di oggi sono solo i primi, ce ne saranno altri e voglio rivedervi tutti di nuovo qua. Grazie. La cerimonia è conclusa.